Fumata bianca in consiglio comunale per l'elezione del vicepresidente del consiglio. L'opposizione ha eletto il consigliere Giuseppe D'Agata del Partito Democratico. Sono stato eletto con i voti della minoranza, più qualche voto personale di qualche amico della maggioranza. Di conseguenza, considerato che il sindaco ha detto sempre, non ha dato anche la disponibilità ad avere il vicepresidente della minoranza, questo secondo me è un duro colpo per la maggioranza e per il sindaco futuro. Per il consigliere Puglisi del PDL, il sindaco Couturi non ha più una maggioranza in consiglio. È da diversi mesi che ormai la maggioranza non c'è più e che il sindaco non riesce più a convincere il consigliere comunale perché in questi quattro anni abbiamo capito che le proposte portate avanti dall'amministrazione non sono state valide e non sono state principalmente convincente ai cittadini che ai consiglieri comunali. E sulle prospettive dei prossimi mesi di consigliatura, il consigliere Licciardello dell'MPA non lascia dubbi. Per quanto riguarda i potetici accordi che ci sono stati per portare avanti la baracca per questi altri sei mesi non ci sono e non ci saranno mai con questo sindaco che non viene incontro alle nostre richieste come ad esempio quello di ridurre gli assessori da sette a quattro perché non esiste da nessuna parte dove si è con l'acqua alla gola ancora mantenere sette persone a fare delle cose che possono fare solo ed esclusivamente i dirigenti. Oltre l'elezione del vicepresidente, ieri in consiglio, il dibattito è stato incandescente. Dal mese di marzo il servizio per l'assistenza domiciliare agli anziani è stato interrotto. Il consigliere Puglisi, che ha sollevato il problema, è intervenuto in merito. Io non vedo il motivo perché ancora il sindaco non vuole far partire questo servizio che è indispensabile, ripeto, per gli anziani e Sant'Antonese. Grazie.